buongiorno come potete vedere questi sono tre centrotavola facilissimi da realizzare allora c'è quello basso per tavole piccole eccolo qui c'è quello medio per tavole medie potete metterne anche tre uguali e c'è quello grande per tavole un po più importanti insomma che potete sempre metterne tre eventualmente come vedete con una tovaglietta sotto questa l'ho fatta io in particolar modo ma potete anche acquistarlo cominciamo con le tre due tre foglie di cappuccia le tagliate a ristarelle così col coltello su un tagliere o eventualmente se non avete il cappuccio fatelo con qualsiasi verdura che avete e poi tagliate la parte sopra come vedete del peperone poi il resto ovviamente lo potete immaginare molto facile nel senso che basta mettere una foglia così il peperone che ci piace così nella posizione che più vi garba e poi questa qui la potete mettere così ed ecco ho creato il vostro centro tavola facile veloce e divertente alla prossima con edugrafie